Commercio, ambulanti abusivi, tolleranza zero di comune polizia, il blitz di sabato avrà altre repliche. Mense comunali, le cuoche, avranno lo stipendio entro Natale ma cambierà il sistema di pagamento delle ditte. Sindacale, tagliati altri milioni e di nuovo allarme nei patronati che rischiano di scomparire. Cronaca e caccia alla banda che ha fallito il colpo grosso al centro commerciale Gran Sasso. Roseto, Rosaria Ciancaione e la coalizione civica danno il via alla campagna per le amministrative. Giudice sportivo, Vivarini squalificato per due turni, scacchioli inibito fino al 12 gennaio. Teramo allucca il sesto K.O. esterno, adesso si fa calda anche la panchina del tecnico Biancorosso. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Comune di Teramo e forze dell'ordine insieme contro il commercio abusivo. Dopo il blitz di sabato scorso, in occasione di ogni mercato, bloccheranno gli ambulanti abusivi prima che espongano la merce. Sentiamo. Blitz del comune di Teramo contro gli ambulanti abusivi. Avete deciso di arginare questo fenomeno? Sì, lo avevamo già fatto in altre occasioni. È un fenomeno che si presenta a Teramo solamente in occasione del mercato del sabato. Avevamo già un'altra volta fatto un'iniziativa e avevamo visto che aveva avuto successo il nostro capitano Finocchi e il nostro comandante Zaina in collaborazione con la questura. Ringrazio il dottor De Carolis per questo e il questore. In una collaborazione interforze hanno deciso di fermare direttamente gli ambulanti abusivi che il sabato vengono a disporre la propria merce contraffatta. Come si posizionano di solito? Di solito si posizionano, addirittura adesso strategicamente usano questo metodo, si posizionano con le borse davanti al negozio di borse. Quindi vi lascio immaginare un commerciante a posto fisso che c'è il negozio e paga le tasse, si ritrova tutti i sabati, che è un giorno oltretutto a flusso di clientela, con un ambulante abusivo davanti al suo negozio che vende magari la sua stessa merce contraffatta a prezzi naturalmente bassissimi. Quindi abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa, di fermarli direttamente quando arrivano, sappiamo dove arrivano. Dunque i controlli non ci saranno solo di sabato in occasione del mercato? No, i controlli per quanto riguarda questa tipologia di problema, cioè gli ambulanti abusivi che vendono merce, quelli per intenderci che si mettono con i lenzuoli a terra e vendono merce, per quelli abbiamo fatto delle iniziative particolari il sabato, quindi li abbiamo fermati agli accessi. Per gli altri, per gli ambulanti, per quelli che diciamo i Vucumpra che vanno in giro quotidianamente, lì c'è anche una collaborazione interforze, però lì il problema è un po' più perché purtroppo non si riesce, non hanno questo flusso così identificabile per quanto riguarda gli arrivi, quindi si dovrebbero fermare, portare in questura, fare il riconoscimento, insomma è una procedura un po' più lunga. E caccia alla banda che la notte di domenica ha fallito il colpo grosso al Bancomat e alla cassa continua del centro commerciale Gran Sasso di Piano Daccio a Teramo. I carabinieri della compagnia di Teramo stanno visionando le immagini dell'impianto a circuito chiuso collegato alla sala di controllo della struttura commerciale gestita dalla Vigilantes Group che hanno ripreso le concitate fasi del tentativo di assalto al forziere della Carichietti. I ladri dopo aver forzato un cancello esterno sul lato ovest del centro commerciale hanno sfondato con una monovolume la vetrata di un'uscita di sicurezza, quella attigua al Bancomat e poi hanno tentato con la stessa tecnica di abbattere il distributore automatico di denaro. Non sono riusciti nell'intento per il tempestivo allarme lanciato da un gruppo di operai che stavano effettuando lavori notturni di allestimento di un negozio e della sala di controllo della Vigilanza. La fuga dei ladri è stata immediata assieme ad una seconda macchina in cui c'erano dei complici ad attenderli all'esterno della struttura. Il colpo avrebbe potuto fruttare ai ladri decine di migliaia di euro. Sabato sera nel corso di alcuni controlli di polizia effettuati al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, gli uomini del commissariato di Atri hanno sequestrato 12 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish rinvenuti nei pressi di tre bar situati a Silvi tra Via D'Annunzio e Via Rossi. Il servizio antidroga effettuato anche con l'ausilio di un cane antidroga della questura di Pescara ha portato all'identificazione di 65 persone, la maggior parte in età molto giovane e per un 21enne di Silvi è scattata la contestazione amministrativa dell'uso personale. Sono in corso attività investigative al fine di identificare chi materialmente deteneva la sostanza rinvenuta e sequestrata per tutti i locali sottoposti anche al controllo amministrativo e in corso l'istruttoria al fine di valutare l'emissione di eventuali sanzioni in relazione alle mancanze accertate dagli operatori di polizia. Lasciamo la cronaca, cambiamo argomento. Dopo il blocco degli stipendi di ottobre e novembre le cuoche delle mense terramane verranno pagate entro Natale. Lo ha annunciato l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Teramo, Piero Romanelli, che ha partecipato ad un vertice in prefettura. La problematica è nata in seguito alla mancata fatturazione da parte della PAP all'azienda Vivenda, circostanza che ha di fatto bloccato gli stipendi. Da gennaio verrà utilizzato una nuova tipologia di fatturazione tra comune e azienda, per cui il problema non si dovrebbe ripetere più il servizio. Risolto il problema del pagamento degli stipendi delle cuoche e delle mense delle scuole del comune di Teramo? Credo di sì. Oggi eravamo in prefettura con le sue eccellenze il prefetto, abbiamo sentito le parti sindacali, le stesse cuoche, c'era il Presidente della provincia Renzo di Sabatino e c'è stato un problema legato alla fatturazione, perché voi sapete che noi abbiamo questo appalto che viene gestito da due aziende, la PAP e la Vivenda. Siccome la Vivenda è capofila, quindi la fatturazione è tutta a carico della Vivenda che poi gira alla PAP. Il problema era legato alle fatturazioni della PAP? Esattamente e quindi adesso noi faremo praticamente dal 1 gennaio una fatturazione disgiunta, quindi fattureremo autonomamente alla Vivenda della PAP e così, visto che qualcuno ha detto che non eravamo stati puntuali nei pagamenti, non è vero, le determine sono in ragioneria, sono in liquidazione, per cui c'è stato l'impegno da parte dei rappresentanti della PAP di liquidare le cuoche entro Natale. I soldi arretrati arriveranno entro Natale? Sì, esattamente. Lì tra l'altro hanno pagato ottobre, credo qualche giorno fa e quindi rimane novembre e poi dicembre con la tredicesima. Hanno garantito questo pagamento, quindi credo che tutto si sia sistemato. Io ho detto anche alle cuoche della PAP, perché stiamo parlando delle cuoche della PAP, che qualsiasi problema anche sull'organizzazione delle mense, oltre al referente PAP, ci siamo anche noi del Comune come controlli e come anche supporto all'organizzazione, di sentirsi, magari di vederci più spesso. Credo che alla fine si è raggiunto quello che si voleva ottenere. Anche a Teramo rischiano di chiudere diversi patronati e molti utenti resterebbero senza assistenza. Questo perché dopo la diminuzione al fondo di 35 milioni di euro, la nuova legge di stabilità ha previsto un taglio ulteriore di 28 milioni. Sentiamo. Dopo il taglio di 35 milioni di euro al fondo patronati stabilito dalla finanziaria del 2015, la nuova legge di stabilità contiene un ulteriore taglio di 28 milioni di euro. Un altro fulmine a Celsereno sui patronati? Sicuramente, voglio dire, erano qui già l'anno scorso dove praticamente il governo aveva preventivato un taglio addirittura all'inizio di 150 milioni di euro. Poi con la nostra mobilitazione ha raccolta firme di 1 milione e 200 mila firme nell'arco di un solo mese, quindi già questo fa capire l'attaccamento a questo tipo di istituzione da parte della cittadinanza. Ma soprattutto al di là di questo taglio che era stato fatto e quindi a seguito di questo dovrebbero essere fatti dei decreti attuativi dove praticamente bisognava stabilire le nuove mansioni ai patronati. I decreti non sono stati fatti, devono essere fatti entro giugno e invece ci ritroviamo di nuovo adesso a dicembre con un ulteriore taglio. Non solo del taglio dei 28 milioni ma anche della riduzione della liquida di prelievo da questo fondo. E a livello locale che cosa significa per voi? A livello locale significa a livello nostro sicuramente una chiusura di quasi il 50% delle sedi e soprattutto una riduzione del 20% del personale, perché praticamente la maggior parte dei costi da noi sostenuti sono servizi, quindi praticamente la maggior parte della spesa sono stipendi o formazione, perché per svolgere questo tipo di attività c'è bisogno di una formazione costante e quindi sono più che altro i costi che noi sosteniamo. Quindi il governo praticamente quest'anno, oltre i 35% dell'anno scorso, la riduzione della liquida di prelievo, ha previsto un ulteriore taglio di 28 milioni di euro e di nuovo un abbassamento della liquida, non solo, anche dell'acconto che ci davano a marzo, almeno dell'80% dell'attività già svolta, che invece passerebbe al 60%. Questo vorrebbe di essere ulteriormente esporsi con le banche, con gli interessi passivi e quant'altro. Non solo, siamo in attesa addirittura dal governo che ci debba erogare il saldo dal 2012, 12, 13, 14, cioè non abbiamo ricevuto fondi, per cui praticamente la situazione è veramente grave. E la ricaduta di questi tagli sugli utenti dei patronati? La ricaduta potrebbe essere molto molto grave, perché comunque parliamo di prestazioni di welfare, per cui prestazioni dedicate alla fascia di popolazione più debole, ai disabili, a chi perde il lavoro. C'è il rischio che alcune attività vengano rese soltanto a pagamento, quindi si potrà accedere ad alcuni servizi soltanto con la corrisponzione di un costo. Quali sono i numeri dei patronati? Quanta gente si rivolge a voi? Ma in termini di pratiche del 2014 abbiamo lavorato come patronati del CEPA più di 40.000 pratiche, che orientativamente vuol dire avere circa 120.000 contatti l'anno solo in provincia di Teramo, quindi un numero di persone veramente molto molto grande. Sarà un emendamento proposto dall'onorevole terramano del nuovo centrodestra Paolo Tancredi a salvare la prefettura di Teramo e altre in Italia. La notizia riceve conferma dallo stesso parlamentare che annuncia l'imminente esame all'interno della legge di stabilità. Sentiamolo. Onorevole Tancredi, un emendamento salverà la prefettura di Teramo? Sì, ad altre prefetture, nel senso che nell'ambito del decreto 78 e della spending review si è deciso che quel taglio, che poi è circa una ventina di milioni, si distribuisce nell'organizzazione complessiva della direzione del Ministero degli Interni. Già il Ministro Alfano ha dato la disponibilità, il MEF ha dato la sua disponibilità, adesso c'è da vedere quale delle versioni sarà. In entrambe le versioni però Teramo è salva. Quindi io spero, non voglio dare la certezza al 100% perché mi aspettavo prima di far approvare l'emendamento, però nel corso di questa legge di stabilità credo che uscirà il salvataggio della prefettura di Teramo. Un avvenimento anacolistico ancora più in questo periodo? Sì, perché insomma questo è un territorio che seppure, purtroppo non è che c'è stato qualcuno che ce l'ha con noi, però noi siamo penalizzati un po' dai numeri, degli abitanti e da alcuni parametri oggettivi. Però è vero che siamo invece un territorio che va da zone interne molto critiche a zone costiere di confine con la Regione Marche che invece portano altre criticità. Quindi un presidio come quello della prefettura che poi come sapete si porta dietro tutta una serie di altri presidi che riguardano il comparto sicurezza, proprio in questo periodo insomma sarebbe stata una cosa anche per una percezione dei cittadini. Salveremo anche quindi questura e tutto il resto, tutte le altre strutture? Nel caso rimane la prefettura, come ormai sembra quasi certo, io sono sempre scaramantico fino all'ultimo, però nel caso rimane la prefettura rimangono tutte le altre vigile del fuoco, questure. Non c'è, se ne parla da lustri, esiste solo sulla carta ma piace. Per questo motivo il progetto di una pista ciclopedonale lungo l'asta fluviale del Tordino, nato all'interno dello specifico piano d'area della zona tra il capoluogo e il mare della provincia, ha ottenuto un'incomio speciale nell'ambito della sesta edizione del premio Goslo Comodo. assegnato dal magazine viaggiatori.com, media partner dell'iniziativa, il premio verrà ritirato a Milano sabato prossimo. Il percorso di 26 chilometri era stato finanziato con 5 milioni di euro di fondi FAS della programmazione 2007-2013 che poi sono stati però utilizzati per il progetto Bike to Cost. Diverse zone della città di Teramo sono poco illuminate a causa di lampioni malfunzionanti. Sono in arrivo però i nuovi lampioni grazie al progetto Paride, ma bisognerà attendere il mese di gennaio. Sentiamo. Sono numerose le segnalazioni dei cittadini terramani per quanto riguarda la mancanza di illuminazione pubblica. In particolar modo si segnala a Piano della Lenta, ma anche a San Nicolò, in diverse vie della più vicina periferia. Cosa si può fare? Allora, questo purtroppo è un problema un po' annoso dove noi ci abbiamo investito sempre di meno e dico subito il perché. Perché stavamo aspettando il famoso progetto Paride che finalmente possa annunciare andata a conclusione. È stata fatta anche la gara dove sono arrivate sette offerte, quindi per l'inizio dell'anno inizieranno i lavori e i lavori di questo progetto prevederanno alla messa a norma e alla manutenzione di tutta l'illuminazione esistente. Noi a Teramo abbiamo oltre 6.500 punti di luce e purtroppo sono tutti imbiandi ormai datati nel tempo, vecchi, quindi basta un pochettino di pioggia e saltano gli imbiandi. Quindi noi non abbiamo fatto altro che cercare di fare il più possibile ordinaria manutenzione, non investirci più di tanto semplicemente perché sarebbero risultati dei soldi buttati, visto che ci sono diversi milioni di euro di questo progetto europeo che abbiamo vinto, che inizierà all'inizio dell'anno e risolverà definitivamente il problema dell'illuminazione esistente a Teramo. Quindi fino a gennaio dovremmo sopportare alcune zone poco illuminata. No, aspettare più che altro l'intervento del nostro tecnico perché noi ci stiamo muovendo in questo modo, in questo momento stiamo comprando i vari materiali, segnalazione per segnalazione che ci arrivano, senza allargarci più di tanto appunto in previsione di questo progetto che sta per partire e stiamo facendo degli interventi singoli che purtroppo servono per tambonare un attimino la situazione ma non risolvono definitivamente il problema. E la luce della stazione che va e viene? Beh, laddove ci sono dei lavori effettivamente in corso cominciamo un po' più il problema perché purtroppo, ripeto, sono in bianchi vecchi che già quando piove purtroppo saltano e ogni mattina l'operatore nostro rifà il giro un po' a riaccendere tutti quanti. Dove tra l'altro ci sono dei lavori in corso spesso purtroppo sono problematiche dovute anche a quei lavori che stanno facendo quindi può saltare la corrente per qualsiasi motivo. Sarà con ogni probabilità il gruppo sportivo di lettantistica Prutino Teramo a gestire la pista di pattinaggio dell'Acquaviva. È infatti l'unica società che ha presentato la richiesta al Comune. La stessa associazione ha organizzato intanto per domenica prossima la 33esima edizione del Festival sui pattini, il servizio. Domenica 13 dicembre dalle 18.30 in poi al Pala San Nicolò si svolgerà la 33esima edizione del Festival sui pattini e non solo. Organizzato come sempre dal gruppo sportivo di lettantistico a Prutino Teramo. È ormai un impegno annuale che appunto si protrae da 33 anni e che ci vede sempre impegnati nel proporre sempre gli atleti migliori diciamo del panorama mondiale del pattinaggio. Quest'anno infatti ci saranno Deborah Sbei, la campionessa del mondo che è sempre presente nel nostro Festival. I campioni del mondo coppia danza Leoni Spigai, Elena Leoni e Alessandro Spigai. Lo stesso Alessandro Spigai è anche campione del mondo di solo dance quindi si esibirà anche da solo e poi ci sono due ragazzi colombiani che quest'anno sono arrivati quarti al campionato del mondo nella specialità coppia artistico e saranno nostri ospiti. Sono giovanissimi e tanti ragazzi del gruppo sportivo Prutino. Festival sui pattini e anche solidarietà quest'anno si raccolgono fondi per l'Unicef? Sì, la signora Gramenzi ha ritenuto di volerci coinvolgere e hanno scelto come progetto una scuola per l'Africa perché voi come sapete in Africa soprattutto se i bambini vanno a scuola e i bambini stanno meglio e soprattutto come dico sempre all'ISIS fa più paura una bambina con un libro in mano che con un mitra quindi mandiamoli a scuola, mandiamoli il più presto possibile, il più a lungo possibile. Il gruppo sportivo di lettantistica Prutino di Teramo ha presentato una proposta al comune per gestire la pista di pattinaggio dell'Acqua Viva? Sì, la proposta è stata presentata qualche mese fa, è una proposta che adesso è al vaglio degli uffici, è una proposta che non è soltanto una proposta di gestione di uno spazio, è una proposta che è anche una prospettiva. Questa società negli anni ha dovuto un po' come dire migrare perché io mi ricordo che ha avuto una prima location presso la struttura del circolo tennis dove prima c'era una pista di pattinaggio, adesso è sotto gli spazi dell'ITI, questa proposta va a completare un po' la ciliegina sulla torta se vogliamo perché si va ad unire insieme alla proposta dei piccoli diavoli, alla proposta del project della piscina e questa proposta completa gli impianti sportivi dell'Acqua Viva. Dunque presupposti per far gestire a questa società la pista ci sono? Assolutamente, è l'unica proposta. La delegazione della regione Abruzzo a Parigi è la più numerosa in assoluto. non solo tra le regioni ma anche tra gli stati. Il consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo attacca l'iniziativa della giunta d'Alfonso e la presenza nella capitale francese della delegazione abruzzese. La replica del sottosegretario Mazzocca, siamo solo in sei e i costi non gravano sul bilancio regionale. Il servizio. Il consigliere regionale di Forza Italia, nonché presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo, attacca la maggioranza per la presenza della delegazione della regione a Parigi che secondo l'esponente forzista sarebbe il gruppo più numeroso in assoluto. Dopo la bocciatura del masterplan da parte del governo Renzi, la regione Abruzzo si consola con un nuovo primato conquistato a Parigi dove vanta la delegazione più numerosa. Sono oltre dieci rappresentanti della nostra regione presenti in Francia, guidati dal sottosegretario Mazzocca, spiega Febbo, e costituiscono il gruppo più corposo non solo tra le regioni ma anche tra gli stati. Porterò la questione all'attenzione sia del Consiglio regionale sia dell'autorità di gestione del progetto IPA e Parigi non mi risulta a facci sull'Adriatico. Del resto in questi due anni di governo regionale di D'Alfonso sono stati propinati agli abruzzesi innumerevoli spot promozionali ma ben pochi atti concreti, altro che regione facile e veloce. L'Abruzzo torna indietro di vent'anni. Pronta la replica di Mazzocca, la delegazione abruzzese alla conferenza sul clima di Parigi è costituita da sei unità, il sottoscritto la dirigente regionale Iris Flacco, accreditati direttamente dal Ministero dell'Ambiente e quattro unità di personale interno fra tecnici, amministrativi e stampa, tutti accreditati dalle Nazioni Unite. Le spese gravano su progetti europei che tali progetti sono ritenuti meritevoli di essere esposti e significa anche che grazie a tale virtù i costi di partecipazione alla COP21 non gravano sul bilancio regionale. Inoltre, prosegue Mazzocca, in ordine alle critiche provenienti da un esponente della vecchia maggioranza regionale che di certo non ha brillato sul tema della cooperazione internazionale, spiace dover constatare che invece di discutere dei risultati dell'azione di governo e del relativo rapporto costi-benefici si mette in piedi il solito teatrino delle contumelie che lascia il tempo che trova evidentemente non si riesce ad andare oltre un certo livello. Presentata a Roseto, all'hotel Palmarossa, la coalizione civica Asta Gammo Roseto che sostiene Rosaria Ciancaione come candidato sindaco. La presentazione di Asta Gammo Roseto si è aperta con l'intervento dei rappresentanti delle forze di coalizione che hanno raccontato il perché del loro contributo alla lista civica. Poi l'intervento dell'onorevole Giulio Sottanelli di Scelta Civica e dell'ospite d'onore l'onorevole Valentina Vezzali, campionessa olimpionica di scherma. Una sala gremita ha accolto calorosamente a Pineto, all'hotel Palmarossa, la presentazione della coalizione civica Amo Roseto e del candidato sindaco Rosaria Ciancaione. Si è aperta così ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative 2016 a Roseto degli Abruzzi con l'evento di presentazione che ha visto la partecipazione dell'onorevole Giulio Sottanelli e come ospite d'onore l'onorevole Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma e atleta più medagliata nella storia dello sport italiano. Voglio ripartire da una data, quella del 27 novembre scorso, ha detto Rosaria Ciancaione, quando ci siamo riuniti e tutte le nuove forze di questa coalizione mi hanno dato la fiducia di rappresentare questa sfida. Nel nostro caso la sintesi si è trovata dentro le diversità. Essere in tanti, come siamo in questa coalizione, significa essere diversi, ma quando si riesce a trovare la sintesi significa che si è determinati all'obiettivo. Tutti i gruppi che compongono questa coalizione, ne siamo nove, nove gruppi sono tanti, rappresentano un po' tante realtà della società civile, mi hanno scelta tutti insieme, non c'è stata una sola voce che si è alzata per dire qualcosa di contrario. Noi siamo tutti, siamo tutti componenti di questa città, siamo il popolo di questa città e dobbiamo lavorare per farla, per renderla vivibile, per farla tornare, come qualcuno ha detto, normale. Noi viviamo in una città e questa città deve essere una città normale. Nei prossimi mesi faremo una corsa insieme per poterla riprendere in mano. Vi ringrazio, grazie mille. Il 12, 13 e 20 di dicembre la Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo venderà in Piazza Martiri della Libertà a Teramo la presentosa, il tradizionale gioiello abruzzese realizzato in questa circostanza con plastica riciclata. Il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza alla Fenice. Il servizio. Cuore di Donna è l'ultima iniziativa della Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo e si svolgerà il 12, il 13 e il 20 a Teramo. Le rappresentanti della CPO venderanno la presentosa in piazza realizzata con materiale riciclato per raccogliere fondi da destinare al centro antiviolenza alla Fenice. Sì, un'iniziativa che abbiamo pensato appunto per questa finalità, quella di finanziare il centro antiviolenza, fior all'occhiello della provincia di Teramo, per aiutare, per non dimenticare, di aiutare le donne vittime di violenza. Noi abbiamo il centro antiviolenza alla Fenice, ma abbiamo anche Casa Maia e quindi di conseguenza non possiamo lasciare queste strutture in balia di se stesse. Ma dobbiamo comunque sempre, sempre essere pronte a raccogliere fondi per far sì che sopravvivano, perché c'è tanto bisogno. Il simbolo di questa iniziativa è la presentosa. La presentosa è un gioiello abruzzese, antico, che rappresenta l'abruzzo da oltre tre secoli dell'artigianato artistico abruzzese. È il simbolo dell'amore, della fedeltà, viene regalato dallo sposo alla sposa e ha di solito due cuori. Invece quando viene regalato alla bambina che fa la comunione, un cuore solo. Noi abbiamo scelto questo simbolo per raccogliere fondi per il centro antiviolenza alla Fenice. Però è una presentosa particolare, perché di solito è in filigrana d'oro e d'argento. Questa è tecnologica, è riprodotta in stampante 3D con un materiale di plastica riciclato. Quindi diciamo che è un po' la tradizione che incontra l'innovazione. Organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e dall'Associazione Culturale Terra e Mare di Roseto, la manifestazione per non dimenticare che si è svolta nel fine settimana a Roseto è giunta alla sua quarta edizione. L'iniziativa ricorda e commemora tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale che hanno combattuto sul fronte greco-albanese. Il sindaco di Roseto, Egno Pavone, ha proposto nell'occasione la realizzazione di una lapide che ricordi i soldati rosetani caduti in guerra e sepolti lontani dalla loro cittadina. Per non dimenticare il 72esimo anniversario dell'ecidio di Cefalonia. Chiaramente sono fatti talmente importanti, talmente gravi, che hanno segnato la vita di tutta la storia italiana che appunto non vanno dimenticati. E qui a Roseto, a Villa Paris, un convegno, una mostra. Insomma, tanto lavoro per questa ragione. Beh sì, tanto lavoro perché noi sono mesi che lavoriamo per questo. anche perché, memoria di altre tre manifestazioni, questa è la quarta per cui eravamo già un po' all'interno. Però quest'anno l'abbiamo arricchito di molto, anche con gli costumi d'epoca dell'esercito, della divisione Acqui che è quella che noi commemoriamo perché all'epoca tutti quanti erano nella divisione Acqui sia che erano carabiniero, finanziario o esercito. E vogliamo commemorare tutti questi ragazzi che sono morti. Cioè, in virtù di loro, cioè del loro sacrificio, noi oggi abbiamo questa libertà. Forse nessuno riesce ancora a capirlo. Ed è per questo che avete voluto coinvolgere anche le scuole e quindi i ragazzi. Questa è la prima cosa che abbiamo voluto, di coinvolgere le scuole in modo che si rendano conto di che cos'è la guerra, di che cos'è la pace. Questa memoria dobbiamo tenerla viva. Ha voluto prendere un impegno importante durante questo convegno, durante questa manifestazione? Sì, ho voluto impegnare l'amministrazione, il sindaco, la città a ricordare i caduti di Roseto degli Abruzzi che purtroppo non hanno una tomba nei nostri cimiteri o nel nostro paese. Magari sono ancora nei campi di concentramento della Polonia, della Germania. Io desidererei che la città si ricordasse ancora di loro, ancora di più di quello che già viene fatto e magari individuarli dove sono con le ricerche che queste associazioni che hanno organizzato questo interessante incontro questa mattina che ha per denominazione Non Dimenticare per fare in modo che poi la città possa rendere omaggio magari con una lapide, con un ricordo di questi nostri giovani che purtroppo non hanno potuto vivere la loro vita, strappati ai loro affetti e ai loro cari in un'età molto giovane e che non hanno neanche più avuto la possibilità di riposare nel loro paese. domani a Martinsicuro verrà inaugurata la mostra di Walter Coccetta Coccetta, milanese di nascita, ha scelto Martinsicuro per vivere e adesso sta preparando anche un'installazione da portare a Malta. Sentiamo domani alle 16 nei locali espositivi dell'associazione Carlo Quinto a Martinsicuro verrà inaugurata la mostra dell'artista Walter Coccetta Sì, Walter Coccetta è arrivato a Martinsicuro nel 1975 nel mentre noi organizzavamo la seconda edizione della mostra contemporanea che allora era un'estemporanea poi diventata contemporanea insieme a Teramo, a Tarantelle, a Gambacorta eccetera da lì siamo diventati amici, nel 1976 ha vinto il primo premio poi abbiamo girato insieme l'Italia a fare mostre ovunque, sue, personali dopodiché a un certo punto lui è esploso e diventato cittadino del mondo quindi però ha scelto Martinsicuro come sua abituale abitazione Walter Coccetta, cittadino del mondo, artista che però ha scelto Martinsicuro Sì, ho scelto Martinsicuro perché ho conosciuto negli anni 70-75 Gianfilippo Vallese siamo entrati in amicizia, essendo lui uno stimatore dell'arte e io ovviamente ci siamo capiti subito e quindi ho seguitato a frequentare questo posto ho conosciuto la gente, le persone, sono diventato amico e nel momento diciamo importante per me che sarebbe questo invitato alla 54esima Biennale di Venezia adesso ho questa mostra, 50 anni di pittura nel Parlamento di Renzo Piano a Malta sto preparando una grossa monografia, mi stanno preparando una grossa monografia e quindi questo è il motivo anche, oltre agli interessi di una mostra è il motivo per incontrare i miei amici collezionisti e non fargli vedere questo progetto e inserirli in questo volume giustamente perché lo meritano e mi hanno aiutato al loro tempo e di conseguenza è una mostra, è un momento di aggregazione, è un momento di incontro e chi meglio da Gianfilippo Vallese E questa sera a Tortoreto, dopo le 20, torna il Galà del Peperoncino, sentiamo Guido Rosati, presidente dell'associazione Nuove Orizzonti torna a Tortoreto il Galà del Peperoncino, in che cosa consiste questa iniziativa? Ma è un'iniziativa che ormai è avanti da 12 anni, quindi siamo a 12esima edizione era nata come uno scherzo, diciamo, tra un gruppo di amici della Val Vibrata poi noi come Centro Studi Nuove Orizzonti, ma anche come Prosa, come altre associazioni ci siamo mossi per realizzare questa cosa è partita, come dicevo prima, come uno scherzo invece già siamo alla 12esima edizione perché nel frattempo, anno dopo anno l'abbiamo sempre più arricchita e gli amici si sono sempre più stretti vicino a noi perché è una serata piacevolissima in quanto non solo c'è lo spettacolo non solo c'è una... sono delle prelibatezze vibratiane diciamo che contengono il peperoncino in dosi naturalmente accettabili dall'antipasto al dolce, ma in più abbiamo inserito da diversi anni una iniziativa di solidarietà quindi ogni anno noi una parte del... diciamo dedichiamo una parte di soldi per qualche struttura o qualche associazione che opera nel settore sociale Maria Articci dell'hotel Panoramiche di Tortoreto un appuntamento che torna e che voi siete lieti di ospitare? Sì, sicuramente lieti di ospitare ma soprattutto per il giro economico che porta a questo evento perché ovviamente dietro questo c'è un grande lavoro da parte di tante persone noi ci aspettiamo sicuramente un buon riscontro soprattutto dalla zona del Terramano e speriamo veramente che il giorno del 7 dicembre la sera del 7 dicembre ci siano veramente tante tante persone questo è il nostro auspicio domani giorno dell'Immacolata Concezione la parrocchia dedicata di Piazza Garibaldi ospita un concerto dell'Immacolata in programma a partire dalle ore 16 lo terrà l'associazione corale insieme vocale Vox Aurea del maestro Antonio Di Marco che ha già altre esperienze nel campo degli eventi della tradizione locale religiosa si ricordano infatti i concerti di Vox Aurea anche in occasione della festa della Terramanità nel giorno di San Berardo l'omaggio al poeta Sardella ma anche il concerto di Natale dello scorso anno nella cattedrale il coro che si è sempre dedicato ad un repertorio polifonico a cappella prevalentemente contemporaneo si esibirà in parrocchia in questo nuovo concerto dell'Immacolata presepe permanente allestito a Fano Adriano e che si potrà ammirare tutto l'anno l'inaugurazione però ci sarà domani sentiamo la prima rappresentazione di Fano Adriano nella sacralità del presepio si svolgerà domani a Fano Adriano a partire dalle 14 e 30 si la prima rappresentazione di Fano Adriano nella sacralità del presepio si svolgerà appunto domani alle 14 e 30 arriveranno gli zampognari di Atina Frosinone poi alle 17 si sarà la messa ufficiata da Sua Eccellenza Monsignore Michele Seccia e poi alle 18 ci sarà l'inaugurazione del presepio è un presepio particolare perché? è un presepio particolare perché è formato da due parti la parte centrale è il classico presepe natalizio con natività, zampognari, pastori e così via mentre sulla parte di sinistra ci sarà la rappresentazione di Fano Adriano quindi con le sue chiese, con le sue fontane il tutto completamente innevato le statuette arrivano da un posto tradizionale per la realizzazione delle statuette del presepio eh sì, le statuette arrivano da San Gregorio Almeno e sono frutto di circa 30 anni di ricerca sul territorio ormai si può dire che siamo di casa a San Gregorio Almeno e circa 4-5 volte l'anno ci richiamo appunto lì per scegliere i personaggi più adatti domani dunque l'inaugurazione ma il presepio si potrà ammirare fino a quando? il presepio è un presepio stabile speriamo di lavorare anche con altre associazioni con i comuni, speriamo più numerosi so che in procinto anche domani ne parleremo durante la manifestazione con il comune di Teramo per portare appunto scuole, persone e così via di dare anche al presepio quella funzione educativa e didattica che un presepio deve assumere e adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo al mattino poco nuvoloso sulle aree litorane e montane sereno sulle aree culinari nel pomeriggio poco nuvoloso sui settori costieri e lungo la dorsale appenninica sereno sui settori subappenninici tra sera e notte poco nuvoloso sui settori marittimi e sui rilievi sereno sui settori interni temperature stazionarie massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle conchie aquilane e marsicane tra 16 e 19 gradi sulle pianure adriatiche venti assenti o deboli settentrionali mari calmi o quasi calmi in provincia di Teramo al mattino parzialmente luvoloso sui settori litorane e montani sereno sui settori culinari nel pomeriggio poco luvoloso su diverse aree del territorio provinciale tra sera e notte parzialmente nuvoloso temperature lieve diminuzione massime comprese tra 10 e 13 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 9 e 12 gradi sulle coste venti assenti o deboli settentrionali mari calmi manolo pesante del giudice sportivo su tecnico e dirigenza del Teramo Calcio due turni di squalifica sono stati inflitti all'allenatore dei biancorossi Vincenzo Vivarini per proteste verso l'arbitro durante l'ultima gara contro la lucchese allontanato rivolgeva frasi offensive verso la terna arbitrale inibizione invece fino al 12 gennaio 2016 per Gianluca Scacchioli per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro al termine della gara di Lucca e questo weekend nel girone B di Lega Pro si è giocato il quattordicesimo turno del girone di andata vediamo i risultati e la classifica Siena L'Aquila 3 a 1 Rimini Sant'Arcangelo 0 a 1 Prato Tutto Cuoio 1 a 0 Maceratese Carrarese 4 a 1 Lucchese Teramo 3 a 1 Lupa Roma Savona 2 a 1 Pistoiese Arezzo 1 a 1 Spall Ancona 1 a 1 e la gara puntedera Pisa si giocherà stasera a partire dalle 20 e 30 questa è la classifica Spall 30 punti Maceratese 28 Pisa 25 Ancona 23 Carrarese 21 Siena e Tutto Cuoio 20 Prato Pontedera 19 L'Aquila 17 Sant'Arcangelo Arezzo e Rimini 15 Lucchese 14 Teramo e Pistoiese 12 Lupa Roma 9 Savona chiude con 2 punti Ancora una sconfitta esterna dunque per il diavolo i biancorossi hanno perso 3 a 1 sul campo di Lucca al Porta Elise è arrivato così il sesto K.O. esterno della stagione per la squadra di Vincenzo Vivarini con quest'ultimo che adesso è a rischio esonero a proposito di Vivarini ascoltiamo la sua intervista rilasciata nel post partita In casa bisogna dare qualcosa in giro ci avevamo detto prima della partita ragazzi diciamo primo tempo avevamo fatto quello che volevamo cioè nel senso che dovevamo far giocare in buona Lucchese e poi essere bravi a ripartire in contropiede non dovevamo lasciare spazio tra le linee soprattutto sulle palle lunghe purtroppo il primo gol è successo proprio così ci siamo allungati su una palla lunga e ci giocavamo non accorciato e quindi abbiamo lasciato spazio con fanucchi di cacciare il porto quindi è stato un errore che avevamo preventivato che non dovevamo fare invece l'abbiamo fatto e poi diciamo nel secondo tempo dall'inizio dell'anno che purtroppo abbiamo dei problemi sugli episodi anche oggi si è ripetuto quindi dobbiamo essere ancora più bravi di quello che siamo stati però faccio complimenti a Lucchese perché ha fatto una grande partita ma qual è l'obiettivo del Teramo in questa stagione? l'obiettivo del Teramo è cercare di cancellare quello che ci hanno fatto l'anno scorso prima di tutto cercando di giocare bene al calcio e soprattutto migliorare le prestazioni tipo quello di oggi dovevamo essere ancora più bravi a cercare di dare qualità al gioco cosa che magari non abbiamo fatto e poi è chiaro che ci dobbiamo salvare perché siamo partiti almeno sei quindi in conseguenza dobbiamo essere bravi a risalire la classifica è un campionato troppo equilibrato c'è molto equilibrato quindi se un vince tre partite riesce a recuperare il problema è sistemare i problemi che abbiamo noi e poi è chiaro che se continuano questi episodi così fino alla fine del anno non so che sarà buono però l'importante è che ci dobbiamo salvare e cercare di essere sempre squadra cercare di dare qualità al gioco che sono gli obiettivi nostri e con il prossimo servizio vediamo tutti i gol realizzati nel weekend nel turno di Lega Pro in attesa del posticipo inizio ripresa pronti via i padroni di casa hanno ribaltato il risultato su calcio di rigore conterraneo Pozzébonda al 64esimo ha calato il tris per i rossoneri anche l'Aquila all'Artemio Franchi contro il Siena di Carboni è caduta a 3 a 1 al 23esimo De Feo ha trasformato un calcio di rigore Piva ha pareggiato i conti al 54esimo ma 12 minuti dopo ancora un rigore di De Feo ha ristabilito le distanze la rete di Bastoni all'83esimo ha messo la parola fine all'incontro al Sant'Arcangelo invece è bastata la marcatura di Margiotta al 17esimo per portare a casa i tre punti contro i padroni di casa del Rimini altra partita stesso risultato finisce 1 a 0 anche tra Prato e Tutto Cuoio i Lanieri hanno conquistato la vittoria grazie al gol di Capello al 66esimo tra Maceratese e Cararese a spuntarla sono stati i marchigiani per 4 a 1 e pensare che ad andare in vantaggio erano stati giallo-blu con il solito infantino al quarto minuto poi però si sono scatenati i biancorossi che hanno pareggiato all'ottavo con Carotti ribaltato il punteggio con Fioretti al 73esimo e dilagato all'ottantesimo ancora con Fioretti e con Ganci al 93esimo è accaduto tutto nel finale tra Pistoiese e Arezzo ospiti in vantaggio all'86esimo con Bentancur il pareggio definitivo è arrivato al 90esimo con Di Bari la lupa Roma ha battuto 2 a 1 il Savona Romani avanti con Tagliarolla al 21esimo il raddoppio si è concretizzato al 75esimo grazie all'Eccese l'inutile gol ospite è arrivato due minuti più tardi con Cocuzza e concludiamo con l'1 a 1 della sfida Spalla-Ancona nonostante l'espulsione di Paoli al 14esimo e il gol su rigore di Cellini al 23esimo l'Ancona è riuscita a strappare un punto preziosissimo al Paolo Mazza di Ferrara grazie al gol di Cognini a tempo praticamente scaduto domenica avara di soddisfazioni per le formazioni abruzzesi del Girone F di Serie D nessuna squadra infatti è riuscita a vincere e a portare a casa i tre punti vediamo risultati e classifica Amiternina Vezzano 1 a 1 Fano Monticelli 1 a 0 Folgore Veregra Fermana 1 a 1 Giulianova Campobasso 0 a 1 Isernia Castelfidardo 3 a 1 Jesina San Nicolò 1 a 0 Matelica Vispesaro 1 a 0 Re Canatese Chieti 1 a 1 San Benedettese Agnonese 5 a 0 questa è la classifica della serie di Girone F San Benedettese 35 punti Fano 28 Matelica 27 San Nicolò 23 Folgore Veregra Isernia 22 Jesina 21 Avezzano Monticelli 20 Campobasso 19 Fermana Re Canatese 17 Agnonese Castelfidardo 16 Amiternina 13 Giulianova e Vispesaro chiudono con 12 punti e con il prossimo servizio vediamo come sono andate le gare delle compagine a Prutine sono state 21 le reti messe a segno nel quindicesimo turno chi si è giocato ieri pomeriggio nel girone F di serie D un turno favorevole alle formazioni ospitanti da un punto di vista statistico infatti si sono registrate 5 vittorie casalinghe a fronte di 3 pareggi e un solo successo esterno l'unico segno 2 di giornata è maturato allo stadio Fadini dove il Giulianova ha ceduto di misura al cospetto del campo basso 0-1 il risultato finale per effetto della marcatura firmata dal molisano Todino a metà del primo tempo buona la prestazione dei giallorossi che si sono ben comportati al cospetto di una compagine nata con l'obiettivo di vincere il campionato alla luce di questo KO il primo assoluto della gestione Serraiocco l'undici di Francesco Giorgini è però rimasto all'ultimo posto a pari punti con la Vispesaro nei quartieri alti della classifica è andata male anche al San Nicolò sul campo della Iesina e Biancazzurri hanno perso 1-0 il gol decisivo è stato realizzato da Trudo al ventunesimo della prima frazione continua quindi il momento nero della squadra di Massimo Epifani che dopo il 5-1 rifilato al Fano si è un po' perso per strada come testimoniano anche i numeri nelle ultime 5 partite infatti sono arrivati appena a due punti decisamente pochi per una squadra partita con l'ambizione di essere la mina vagante del girone per quanto riguarda le altre il Lecchietti si è dovuto accontentare dell'1-1 a Recanati all'iniziale vantaggio di Miani ha risposto Massimo con la complicità di una galeotta deviazione di un difensore leopardiano in attesa del recupero con la Folgore Veregra in programma mercoledì prossimo 9 dicembre i neroverdi sono saliti a quota 19 e attualmente si trovano nel cosiddetto limbo della classifica passando di pala in frasca è terminato 1-1 anche il derby tra Amiternina e Avezzano partita contraddistinta dai rigori addirittura tre concessi dal direttore di gara due sono stati realizzati da Bisegni e Torbidone uno invece è stato fallito dallo stesso Torbidone che così ha dilapidato l'occasione di fare doppietta e di regalare suoi l'intera posta in palio infine in vetta continua senza sosta la corsa della Samb che ha rifilato una cinquina all'Agnonese 5-2 il finale la capolista ha così conservato i sette punti di vantaggio detenuti alla vigilia sull'inseguitrice Fano in eccellenza Vastese e Paterno hanno fatto il vuoto le due capoliste hanno vinto i rispettivi impegni giocati hanno portato a sette i punti di vantaggio sul resto del gruppo risultati e classifica anche dell'eccellenza Acqua e Sapone Renato Curi-Angolana 1-1 Capistrello-Pinetto 1-1 Cupello-Celano 3-2 Francavilla-Sansalvo 0-1 Martinsicuro-Montori 88 2-2 Morrodoro-Alba-Adriatica 0-2 Paterno-Miglianico 3-0 Torrese-Valdisangro 3-1 Vastese-San Buceto 4-1 questa è la classifica Paterno e Vastese al comando con 35 punti si seguono a 28 Martinsicuro e Pineto Morrodoro 26 San Salvo 24 Miglianico 22 Alba-Adriatica 20 Capistrello 18 Cupello-Montori 88 Renato Curi-Angolana e Torrese 17 San Buceto e Valdisangro 16 Celano e Francavilla 10 Chiude l'Acqua e Sapone con 8 punti non perdete questa sera alle 21 l'appuntamento con la nostra trasmissione Biancorossi in diretta la trasmissione come sapete interamente dedicata alle vicende del Teramo Calcio questa sera tra gli ospiti ci sarà il vicepresidente del Teramo Ercole Cimine la trasmissione come sempre condotta da Andrea De Aloisio e con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata grazie per l'attenzione